ed eccoci qui appena finita la partita si appena finita finita da due ore però ho le ultime ai pronostici quindi ci ho messo un po' di più oggi comunque Napoli-Torino 1-1 comincia un'altra giornata del campionato comincia smoccolando perché come al solito io sono grande a stare cazzo ho giocato all'uno invece cazzo l'avevo detto tra l'altro ieri non mi ha giocato i segni e io che ho fatto giocato i segni perché quando uno nasce coglione un po' le muore intelligente questo è poco ma sicuro avevo messo Napoli-Torino multigol 1-3 casa e gol casa secondo tempo mannaggia la puttana per carità per carità per carità tra l'altro ho preso anche Palma-Brescia se non sbaglio fammi vedere mi pare che è finita 2-1 sì 2-1 ho messo 1 e multigol 1-3 casa ma perché io metto i pronostici che metto io porca troia vorrei sapere comunque parlando del Napoli paradossalmente secondo me questa partita mi è piaciuta più questa le partite del Napoli che quella contro la Juve meritavano più di vincere questa che non quella con la Juve secondo me perché basta guardare un po' le statistiche loro hanno segnato con un tiro 2 mi pare 2 ecco 8 tiri a 2 con gol che se la prova 10 volte 9 volte lo sbaglia sicuro Sanabria che tra l'altro non segna mai oggi si è scatenato qua non te dice male te dice male non c'è niente da fare il Napoli secondo me meritava ampiamente la vittoria qui 22 tiri a 11 8 tiri a 2 calci d'angoli 13 a 7 ben 20 calci d'angoli a saperlo porca puttana se giocai l'over 9 e mezzo già era quota 2 passa secondo me fuori giochi 3 a 0 cartelline gialli 4 e quindi niente buon con la scheria secondo me migliore in campo tra i migliori in campo o si man insomma fatto poco se non niente si è preso un'ammunizione basta e quindi sto Napoli altamente discontinuo non si capisce niente sinceramente infatti l'avevo detto ieri non mi fidate del segno ecco io invece sono caduto in tra trappola con tutte le scarpe porca puttana sto Torino anche non si capisce mai niente quel che vuole fa Torino lo riesco a decifrare quasi mai anche perché sinceramente Torino non mi piace tanti dicono che gioca bene ho visto squadre degli unici migliori come il Verona per esempio vannera al Verona giocare davvero bene ma Torino fa una fatica poi parliamoci chiaro oggi Merinko Vissavi ci ha fatto delle parate incredibili almeno 3 o 4 tra i migliori in campo anche lui sicuramente quindi e vabbè tanto se so che sempre in sepole vince purtroppo manco se giochi in singola tanti dicono è in singola se vince sì come col cazzo ne verrebbe la di e vabbè comunque Napoli che ottiene un pareggio va bene per noi altri però perché perlomeno sta la larga e quindi 44 punti settimo tra l'altro due vittorie tre pareggi in ultime cinque partite Torino invece un decimo proprio metà classifica due pareggi due sconfitte una vittoria insomma sto Torino stanno io non so che vuole fa Cairo ma sempre le stesse posizioni in salaura dal San Polasticella ed è fa un mercato un po' più decente secondo me boh io chiedo sempre le stesse posizioni mi romperi anche il cacchio sinceramente e ricordiamoci che Torino ha vinto anche numerosi scudetti e adesso guardiamo adesso che vince sempre sempre in delle stesse posizioni ma sinceramente qualche sforzo in più farei fossi il presidente comunque questa era una veloce disamina della partita di oggi tantissimi tiri Napoli che meritava ampiamente ma quando la stagione va così e c'è niente da fare più fa mille tiri e c'è niente da fare purtroppo per loro dico e qui niente pensiamo al domani Sassolo Fosinone ho messo 2 a 0 2 a 1 3 a 1 voglio più anche qualche risultato esatto squadra a casa vince almeno un tempo e che cazzo ho scritto ah laurentè marcatore che insegna la vita tra l'altro stanno proprio laurentè sta facendo lì di Pugli secondo me e tutt'altro laurentè rispetto a quello dell'anno scorso e poi ulti gol 1-3 casa poi Bologna Inter attenzione perché secondo me prevede un'ecatombe secondo me l'Inter tutt'altro pensa tranne questa partita poi per carità l'Inter è forte appunto anche vince però sarà anche ora che se ci panamolica secondo me quindi risultati 1-1 1-2 0-2 X primo tempo X finale e marcatore Dautaro poi Genoa Monza 2-1 1-1 1-2 gol 1-1 gol 2-5 poi Cagliare Serenitana multigol 2-4 e Lapadura marcatore chissà vediamo qualche giocata diversa poi c'è anche a serie B ho messo Spezia su Tirol 1-1 X più multigol 1-5 Modena Feral Pisarò over 0-5 primo tempo più under 1-5 ospite no si casa ve lo dì sbagliato Cossensi Cittadella X primo tempo X finale Pisa Ternana 1-1 che cazzo ho scritto ma dove andavo quanto scrivo male a 1 primo tempo 1 finale squadra casa vince almeno un tempo Premonese Como ultigol D4 Cadanzaro Reggiana 1-X più under 3-5 e ah poi c'è Manchester ho messo quante squadre Manchester Eletton gol ho messo poi c'è in caso di C allora dove per gol e semantala multicolospite 1-2 Trento Virtus Peruna under da mezzo Provercelli Alignago X under da mezzo e Lumezzale Epo Bata 1-X più under 3-5 questi e noi i pronostici di serie B e serie C proprio se della simoletta io proprio mi segno tutti i camponati comunque questo è tutto appuntamento a domani e proviamo bene che appa qualcosa a domani a domani Grazie a tutti.